Manca l'ufficialità, ma i giochi sembrano fatti. Dopo oltre un mese di delibere e proteste, la Regione sta per mettere la parola fine al caso dell'Istituto Comprensivo di Monte Rosello Basso. L'amministrazione regionale ha infatti pubblicato la delibera del 22 gennaio relativa alla programmazione scolastica dell'anno 2020-2021, dove si annuncia che, e queste le parole, non si intendono a portare modifiche rilevanti alla rete scolastica sarda. Nell'allegato vengono riportati i paesi e le città, oggetto di una modifica nella riorganizzazione. Tra questi manca proprio Sassari, scongirando così, a quanto pare, la soppressione dei plessi decise lo scorso dicembre della Giunta Campus e dell'assessore comunale all'istruzione, Rosanna Arru. Con l'ultima comunicazione, l'ente regionale ha messo quindi per iscritto il piano scolastico già enunciato a voce il 23 gennaio dall'assessore di riferimento, Andrea Biancareddu, e dal presidente della Regione, Cristian Solinas, durante la presentazione delle linee guida dell'offerta formativa. L'iter della vicenda si sta articolando lungo tre passaggi. Dopo una prima delibera prodotta dall'amministrazione regionale, è toccato alla seconda commissione consigliare procedere alle audizioni specifiche, tra cui quella avvenuta il 15 gennaio, con la delegazione del Comitato contro la chiusura di Monte Rosello Basso. Ora manca l'ultimo tassello. Concluse le audizioni, in corso proprio in questi giorni, il parere conclusivo spetta di nuovo la Giunta regionale. Una decisione molto attesa per i genitori e i cittadini che si sono da subito mobilitati contro il provvedimento di Palazzo Ducale. Resta da capire se le incertezze sul futuro della scuola possano aver influito sul numero delle iscrizioni.